Matteo Reda, nuovo Presidente della Cabassi Union Carpi, da ex giocatore bianco rosso ti ricordiamo qui con questa maglia gli anni tra le eccellenze e i ritorni Serie D, un orgoglio speciale e soprattutto una collaborazione che dà lustro anche alla vostra società avete lavorato molto bene in questi anni. Sì, è stata veramente una grande opportunità per la nostra società prendere spunto da questa richiesta del Carpi e iniziare questa collaborazione per quanto riguarda il settore giovanile siamo orgogliosi di dare una mano al Carpi e sicuramente questo sarà spunto di crescita anche per noi cercheremo di fare del nostro meglio, cercheremo di appoggiare questa rinascita del settore giovanile del Carpi in modo più opportuno, in modo più proficuo e chiaramente speriamo anche noi di trarne un po' vantaggio per far crescere quello che è il nostro settore giovanile, come hai detto tu, ripartito dopo anni di difficoltà e in questo momento invece sicuramente con ambizioni maggiori rispetto al passato.